Come è andato questo incontro? Molto bene, era un pranzo che dovevamo fare nei tempi della campagna elettorale, era il pranzo di conclusione, dovevo capire che ci faceva il tacchino sul tetto, me l'ha spiegato e adesso sono un uomo felice. Ma avete parlato della composizione del ministro? No, è normale che in un partito come il Partito Democratico, chiusa la vicenda delle primarie, adesso si discuta della campagna elettorale, credo che sia normale che quando finiscono le primarie si possa restare dentro un partito anche se si perde, vedo troppa gente che è abituata a scappare con il pallone, io non sono affatto in questo modo. Quindi è anche del suo ruolo nella campagna elettorale? Dei quello che farà il Partito Democratico durante la campagna elettorale, però su questa cosa chiedetelo al segretario che sta arrivando, ecco sta arrivando il segretario. Mi ha sentito Monti, mi ha detto silenziare il gerenzo.